ciao cancro benvenuto in questo nuovo video oggi vediamo l'oroscopo per il mese di dicembre 2022 lo faremo guardando all'astrologia vedremo i transiti planetari grazie alle mie efemeridi dopodiché andremo ad interrogare anche le mie carte i miei tarocchi va bene allora cancro ma uno dei transiti diciamo positivi per te per il mese di dicembre è sicuramente il rientro il tornare indietro di giove giove che è rientrato già nel mese di novembre nel segno d'acqua dei pesci segno che come tu sai se non lo sai te lo dico io e tu amico è affine a te è un segno d'acqua come te questo è un passaggio molto 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 positivo che sicuramente ti tornerà ti tornerà comodo nel mese di dicembre perché dico questo perché qui ci saranno mercurio e venere dal segno a te opposto del capricorno che potrebbero portarti qualche qualche fastidio quantomeno nella sfera famiglia lavoro lavoro famiglia ma andiamo per gravi allora dicevamo mese di dicembre e parte nel migliore dei modi nel migliore dei modi perché c'è questo giove che cammina in pesci almeno fino a poco prima di natale e quindi tu mi capisci siamo quasi in fondo quindi con questo giove in pesci un mercurio e una venere che ancora non ti infastidiscono ma sono nel segno del sagittario qui posso addirittura vedere una qualche novità assolutamente positiva anche per quanto riguarda il lavoro per esempio quindi qui ci può essere una qualche novità positiva da quel punto di vista da quel punto di vista lì cos'altro quindi sicuramente una una quotidianità molto movimentata quindi il tuo quotidiano lo vedo molto molto indaffarato molto movimentato e via dicendo e con questo giove giove e nettuno a dire il vero perché in pesci c'è anche nettuno ma questo lo sapevamo lo sapevamo già possono messi insieme a tutto il resto possono sicuramente portare a una qualche novità che arriva da lontano una novità molto positiva sullo studio per lo studio per esempio se stai studiando nuove discipline se tu sei alle prese che ne so io con un esame anche un esame dal punto di vista che ne so se tu vuoi fare per esempio un concorso mi viene da pensare ecco quindi positivo anche da quel punto di vista lì qui ci sono anche delle comunicazioni che possono arrivare e che a dire il vero potrebbero arrivare anche da da lontano non solo qui c'è anche molto molto bella la spiritualità quindi per esempio se tu fai un mestiere anche se vuoi no o se tu hai un hobby per l'amor di dio o se tu stai studiando è con qualcosa di questo tipo penso alla psicologia penso non lo so a un corso come si chiamano per oss per infermiera insomma un qualcosa che può riguardare anche la spiritualità l'arte ecco diciamo che è un periodo molto molto bello molto fertile anche da quel punto di vista lì proprio grazie ma non solo a questo giovea a questo nettuno dal segno dei pesci ma anche a questo mercurio venere sole nel segno del del sagittario quindi qui c'è un qualche movimento proprio anche lavorativo ti vedo anche andando in campagna è non sai che tu ci va a fare però tu ci potresti andare non escludo un animale un animaletto quindi non lo so l'andare a cavallo magari anche un animale domestico che arriva in casa fai visita ai canili se propone da riprendere uno comunque detto questo quindi quello mentre nella seconda parte del mese con l'entrata di mercurio e venere e successivamente anche del sole in capricorno lì un qualcosina potrebbe cominciare a stridere potrebbe cominciare a stridere anche no sto sgranando gli occhi perché sono proprio una strega scusate sono una strega mentre parlavo ho visualizzato visto la faccia di una diciamo di una mia amica di una ragazza mi è venuto da pensare a lei mentre parlavo qui e non so se avete sentito c'è stato un attimo ho detto la chiamo appena finisco di fare il video del cancro la chiamo e ho visto adesso voi non lo vedete ovviamente sul telefono mi è arrivato un messaggino di questa persona persona che non sento ovviamente da mesi è quindi guarda sono rimasta sono rimasta asciugata comunque chiusa la parentesi capito quindi lì un qualcosina ma guarda per esempio mi viene anche da pensare non lo so magari c'è un qualche qualche screzio in famiglia o magari un qualche problema con la casa o ancora o ancora semplicemente non c'è problema alcuno ma semplicemente ci sentiamo un po soli specialmente in questo mese di dicembre vedi ci si avvicinano verso il il natale quindi questo cancro insomma che avrebbe bisogno e sentirebbe il bisogno molto molto forte della coccola dell'abbraccio della dimostrazione diciamo così di amore d'affetto si potrebbe sentir trattato in modo un pochino freddo un pochino distaccato da chi gli sta intorno ecco magari proprio dalla o dalle persone da cui lui invece vorrebbe più amore comunque detto questo vedremo poi nell'oroscopo per il 2023 che pubblicherò a breve vedremo più approfonditamente ora andiamo a vedere le carte io ti invito ad iscriverti a questo canale se non lo hai ancora fatto e clicca sulla campanellina così verrai avvisato a dei nuovi dei nuovi video che pubblicherò andiamo a vedere allora per il segno del cancro mese di dicembre dicembre 2022 di nuovo allora un segno l'ho vista prima ho detto no dai le voglio mischiare ed è uscita di nuovo la vittima ok qui dice dobbiamo semplicemente vedi essere vittima del prossimo vittima degli altri dobbiamo evitarlo ad ogni costo in effetti qui mi torna con questa opposizione no cancro capricorno ma vittima proprio anche nel senso capito che veniamo trattati magari in modo più più freddo semplicemente più distaccato di quello che invece vorremmo avremmo bisogno ok andiamo a vedere però vediamo tutte le carte poi le mettiamo insieme per il segno del cancro mese di dicembre 2022 come trascorreranno il mese cancro dicembre bella il 3 di coppe guarda e memorizza bene cos'è questa carta il 3 di coppe è una carta fantastica bellissima ma al di là proprio no della carta di è un questo è un quadro è assolutamente un affresco ma è anche proprio una carta felicissima bellissima andiamo a vedere andiamo per gradi con tutte le altre tutte le altre carte questi sono oracoli che ho creato io e se puoi avere queste carte trovi il link giù in descrizione oppure puoi chiedere a me con una mail le carte di penelope chiocciola gmail.com guarda l'amica fedele quindi magari semplicemente durante il mese di dicembre potresti trascorrere dei momenti appunto no con una cara con una cara amica o con più di una via ovviamente segno del cancro ora le vediamo tutte il cancro cancro mese di dicembre wow carta bellissima fidati adesso te la vado adesso te la vado a spiegare è una carta proprio come il jolly diciamo dov'è che mi è sfuggita è come se fosse diciamo così il jolly della situazione poi è volata la cicogna anch'essa carta molto molto felice e andiamo a vedere adesso i tarocchi questo mettiamolo più un qua facciamo così le carte non so se si vedono ve le voglio far vedere amica fedele no non ci sta questa mettiamo la sotto con la cicogna vediamo ok tiriamo i tarocchi mese di dicembre 2022 per il cancro wow l'asso di bastoni bellissima bellissima carta asso di bastoni cos'altro per il segno del segno del altra carta bastoni fante di bastoni asso di bastoni fante di bastoni ma guarda qui già mi viene da dire che ci saranno senz'altro delle novità nel mese di dicembre molto 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 favorevoli qui tu reagisci diciamo così fammi vedere è tutto in mano sua cancro mi viene da dirti guarda diciamo che quel giove in pesci che aiuterà sicuramente il cavaliere di denari cavaliere di denari ok è il bagatto ma guarda cancro qui ti confermo è un mese assolutamente positivo guarda mi basta questa carta che mi bastava questa carta qui per chiudere le carte di et guarda non ci sono problemi guarda io ti vedo fare anche un viaggio spostarti andare da qualche parte forse proprio per festeggiare per festeggiare un qualche cosa diciamo che è tutto in in mano sua starà a te decidere sarà tua la decisione di andare non andare come andare quando andare ok cancro questo questo sicuramente qui fanno vedere senz'altro c'è un cancro vedi un po' rannicchiato in se stesso che ha un po' anche il significato se tu vuoi del tuo segno zodiacale il cancro è un granchietto visto il granchietto di mare no come fa quando sente le persone o un pericolo fium si infila dentro il guscio ecco il classico no scorza dura a cuore tenero per capirsi questo è il cancro molto permaloso vero umam e non dire di no perché non è vero quindi basta una parola e si offende che si chiude in sé ecco però c'è un cuore oceanico quindi nel cancro c'è proprio il cuore cancro c'è venere nel segno del cancro quindi ok quindi qui c'è questo senso se vuoi anche di solitudine che abbiamo visto se ti ricordi qui dall'astrologia dalle stelle abbiamo visto un momento in cui ci potremmo sentire isolati in cui ci potremmo sentire trattati magari no con freddezza diversamente da invece ciò che vorremmo desidereremmo noi ecco quindi un momento senz'altro un po un po così nel mese di dicembre ma nello stesso mese di dicembre c'è anche il risvolto positivo qui posso vedere sicuramente festeggiare qualcosa con un'amica o con delle care amiche comunque con altre con altre persone non sotto puoi uscire andare a ballare andare a mangiare ok a festeggiare qualcosa poi se penso al mese di dicembre come al mese natalizio tu mi capisci due più due fa quattro quindi ci sta anche che siano festeggiamenti di natale con la famiglia con una sorella con i figli con quello che ti pare ok qui c'è anche una comunicazione senz'altro molto molto importante che arriva da un'amica ok che ci dice qualcosa forse proprio è incinta qui c'è la cicogna quindi questa è una cicogna quindi non escludo affatto una gravidanza non so se è la vostra ma ci sta è per l'amor di dio ci sta che sia proprio la la vostra gravidanza all'arrivo di un figlio ma io vedo più probabile che siccome c'è questa comunicazione che arriva ok che sia una gravidanza messaggiata come si dice insomma che ci viene detta ci viene rivelata non so com'è meglio non so com'è meglio dire quindi qui una gravidanza un bimbo in arrivo che potrebbero essere anche due a diri vero non importa quindi una gravidanza in arrivo forse proprio di questa forse proprio di questa cara amica però io si vedo anche fare un qualcosa di nuovo un qualcosa di nuovo tu intraprendi un qualcosa di nuovo forse proprio per motivi di forse proprio per motivi di lavoro qui c'è molto entusiasmo energia voglia di fare nonostante ci sia questa spina nel cuore qui c'è una spina nel cuore del cancro sì qui ci sarebbe un grande grande grandissimo bisogno di cuore che un arriva mai ma non è vero che non arriva mai perché con giove in pesce arriva e come però per dire diciamo che il mese di dicembre ti vede sia l'una sia l'altra cosa c'è questo cambiamento non escludo che tu possa andare da qualche parte perché ti vedo andare da qualche parte fare un viaggio alcuni di voi un viaggio proprio addirittura in aereo potreste andare da qualche parte perché vedo l'aereo addirittura tu potresti superare il mare come si dice andare di là dal mare ok qui mi sono volati anche i due numeri il 13 e il 999 I am confident and I am unique quindi sei un lavoratore coscienzioso quindi sicuramente qui ci sono non sto a leggerle tutte non voglio allungare troppo il video però sicuramente qui c'è un qualcosa di creativo ed effettivamente qui c'è questo bagatto c'è questo mago quindi qui c'è un qualcosa di nuovo che tu ti potresti inventare c'è questo asso di bastoni un qualcosa di nuovo che tu ti potresti inventare fosse anche solo un nuovo entusiasmo un nuovo progetto che ti dà entusiasmo voglia di fare voglia di andare avanti e il 999 ok dai come ti dice ringrazia il passato per le lezioni che ti hanno dato e che ti portano a fare del tuo meglio oggi detta proprio in soldoni I am unique qui c'è un qualcosa di nuovo bambine o bambini e ragazzi del del cancro delle novità che arrivano una gravidanza che ci viene detta ci viene detta da 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 qualcuno ma anche comunicazioni o qualcosa di importante un festeggiare un festeggiare un lavorare un viaggio e una ritrovata diciamo così no leggerezza ma proprio voglia di vivere e entusiasmo e entusiasmo per un qualcosa qui c'è una novità che ci ridona quell'entusiasmo che magari momentaneamente con questa vittima avevamo avevamo perso a maggior ragione se tu sei stato sei vittima non so di bullismo piuttosto che capito un qualcuno che ti tratta in modo freddo in modo un po un po così stai pur certo caro cancro che qui le cose cambieranno io continuo a guardare questa carta che tutto lenisce tutto guarisce quindi stai tranquillo che tu passerai anche per un mese di dicembre assolutamente positivo poi fammi sapere di chi è questa questa gravidanza che ho visto questa cicogna in arrivo va bene cancro iscriviti al canale perché a breve pubblicherò l'oroscopo per il 2023 e non te lo puoi perdere assolutamente vero ok un bacione e ci vediamo sempre qua al prossimo video ciao cancro eccoci qua vi lascio ai miei vi no ciao iscriviti al canale ciao